E' la sua quarta edizione, il Festival Meno Alti dei Pinguini. Meno Alti dei Pinguini è tratto da un libro di Jack Tessaro e sta ad indicare queste piccole personcine, questi bambini che popolano la nostra città. E questo festival è dedicato proprio ai bambini, ai genitori, ai loro genitori e a tutti gli operatori del settore educativo, affinché la cultura dello 06 torni ad avere un'importanza nei temi culturali e nella città. Tre giorni di spettacoli teatrali, laboratori di strada, workshop artisti di strada e un focus specifico sui linguaggi tra naturale e digitale. La cooperativa Progetto 5 porta di nuovo nelle piazze a retine Meno Alti dei Pinguini, il festival dedicato alla fascia 06 che si è svolto nel centro di Arezzo dal 22 al 24 di ottobre. Non a caso è diffuso in città perché vogliamo che la cultura dello 06 sia disponibile per tutti e che le bellezze di questo segmento siano possibilmente visibili da genitori e da chiunque passi in città. Si sono svolte tantissime attività, sia teatrali, sia laboratoriali per bambini e per genitori, tantissime attività anche teatrali e speech o convegni alla Borsa Merci piuttosto che al Palazzo Fossombroni del Comune di Arezzo dove si affrontano il tema principale del festival che è linguaggi tra digitale e naturale. Sono cambiati i bambini, è un'evoluzione continua, i bambini cambiano sempre e si adattano ai contesti in cui vivono. Siamo noi adulti che facciamo fatica a comprendere la loro grande flessibilità e dell'elasticità e facciamo fatica anche a comprendere come gestire il rapporto con loro. Come si fa ad arrivare al cuore e all'anima di questi ragazzi attraverso il digitale? È un'ottima domanda. Il cuore e l'anima di questi ragazzi e di queste ragazze è anche negli strumenti digitali. Non possiamo più pensare che viviamo in un mondo dove l'online e l'offline sono separati, quindi dobbiamo avvicinarci a questa nuova dimensione dell'esperienza che vede integrati gli strumenti digitali con le nostre vite quotidiane e incominciarli a conoscere e a dialogare anche attraverso questi strumenti con i ragazzi e con le ragazze. Moltissimi rischi oltre alle opportunità. Saperli riconoscere è fondamentale perché è una responsabilità collettiva quella di accompagnare i più piccoli e le più piccole a riconoscere gli ambienti, a riconoscere con consapevolezza dove si trovano e che tipo di comportamento possono tenere negli ambienti digitali. Grazie.